La vita e il triste finale di Marisa Allasio. Benvenuti nel nostro canale. Oggi esploreremo un aspetto profondo e toccante della vita di Marisa Allasio, un'attrice italiana amata e rispettata. Detro il suo sorriso luminoso e la sua carriera di successo si cela una storia di tragedia e resilienza. Accompagnateci in questo viaggio commovente mentre esploriamo le esperienze che hanno plasmato la vita di Marisa Allasio. Scoprirete come la sua resilienza e la sua capacità di reagire alle avversità hanno influenzato la sua carriera e la sua visione del mondo. Marisa Allasio, nome completo Maria Luisa Lucia Allasio, è nata il 14 luglio 1936 a Stresa, una pittoresca località sulle rive del Lago Maggiore, situata nella regione del Piemonte in Italia. Da giovane, Marisa Allasio mostrò interesse per il mondo dello spettacolo e della recitazione. Dopo aver completato gli studi, decise di perseguire la sua passione per la recitazione e iniziò a prendere lezioni di recitazione. La sua bellezza e il suo carisma naturale attirarono l'attenzione degli agenti di casting, aprendo così le porte per la sua futura carriera nel cinema. All'inizio degli anni 50 Marisa Allasio si trasferì a Roma per seguire il suo sogno di diventare attrice. Si fece strada nel mondo del cinema italiano ottenendo piccoli ruoli e apparendo in alcuni film senza ricevere ancora grande riconoscimento. Tuttavia, il suo gran trampolino di lancio arrivò nel 1957 con il film L'amore più bello. Questa pellicola la rese subito famosa grazie alla sua interpretazione e alla sua bellezza incantevole che le valse l'attenzione del pubblico e della critica. Il successo di Marisa Allasio continuò negli anni successivi ottenendo ruoli sempre più importanti e lavorando con registi di spicco e dell'epoca. Durante gli anni 50 e 60 divenne una delle attrici più popolari e amate del cinema italiano. La sua giovinezza e il suo aspetto dolce e sensuale le fecero guadagnare l'appellativo di ragazza ingenua o biondina del cinema italiano. La sua presenza sullo schermo, caratterizzata da un sorriso luminoso e una personalità affascinante, catturò l'attenzione di molti spettatori. Marisa Allasio ha dimostrato di essere un'attrice versatile, passando con facilità dai ruoli comici a quelli drammatici. La sua capacità di affrontare diverse sfumature di personaggi contribuì alla sua longevità e alla sua popolarità nel mondo del cinema italiano. Dopo il suo debutto cinematografico nel film L'amore più bello nel 1957, Marisa Allasio ha iniziato a ottenere ruoli sempre più importanti. È stata spesso scelta per interpretare il personaggio della ragazza ingenua e seducente, grazie alla sua bellezza naturale e al suo fascino magnetico. Uno dei suoi collaboratori più frequenti è stato l'attore e comico Totò, con il quale ha recitato in diversi film di successo come Totò, Peppino e i fuorilegge, 1956, e Totò, Peppino e i giovani d'oggi, 1960. Queste commedie brillanti hanno consolidato la sua fama e hanno mostrato il suo talento nel campo del cinema comico. Marisa Allasio ha lavorato anche con altri registi importanti dell'epoca, come Luigi Comencini in La Sposa Bella, 1956, Mario Municelli in L'armata Brancaleone, 1966, e Dino Risi in Una vita difficile, 1961. Questi film hanno dimostrato la sua capacità di affrontare ruoli più impegnati e drammatici, mettendo in evidenza la sua versatilità come attrice. Durante la sua carriera, Marisa Allasio è stata apprezzata non solo per la sua bellezza, ma anche per le sue doti attoriali. Il suo carisma sullo schermo e la sua capacità di catturare l'attenzione del pubblico le hanno valso numerosi fan in Italia e all'estero. Nonostante il suo grande successo, la carriera di Marisa Allasio subì un'interruzione improvvisa a metà degli anni 60. Dopo aver recitato in alcuni film di successo, come Soldati e Capelloni, 1967, decise di ritirarsi dal mondo del cinema per dedicarsi alla sua famiglia. Nonostante il suo ritiro precoce, Marisa Allasio è rimasta un'icona del cinema italiano, lasciando un'impronta significativa nella storia del cinema del suo paese. La sua bellezza, il suo talento e il suo carisma continuano a essere ricordati e apprezzati dagli appassionati di cinema di tutto il mondo. La vita privata di Marisa Allasio è stata relativamente riservata. Dopo il suo ritiro dal cinema negli anni 60, ha scelto di vivere una vita più lontana dai riflettori. Marisa Allasio è stata sposata due volte. Il suo primo matrimonio è stato con il regista Luciano Salce nel 1964, ma la coppia ha divorziato dopo alcuni anni. Successivamente, nel 1971, si è sposata con il produttore cinematografico Franco Cristaldi, noto per la sua collaborazione con registi come Lucchino Visconti e Federico Fellini. Anche questo matrimonio è terminato con un divorzio. Dopo il suo secondo divorzio, Marisa Allasio ha deciso di concentrarsi sulla sua famiglia e sulla sua vita personale. Ha trascorso gran parte del suo tempo con i suoi figli, preservando la sua privacy e mantenendo una certa distanza dalla vita pubblica. E così si conclude la storia di Marisa Allasio, un'attrice italiana e iconica che ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema del suo paese. Con la sua bellezza affascinante, il suo talento versatile e la sua presenza magnetica sullo schermo ha conquistato il cuore di milioni di spettatori. Se sei affascinato dalla magia del cinema italiano e desideri saperne di più sulle vite e le carriere di artisti come Marisa Allasio, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Qui condivideremo storie avvincenti, curiosità sul dietro le quinte e approfondimenti sul mondo del cinema italiano. Iscriviti al nostro canale per non perdere le ultime notizie e video sul cinema italiano e le sue stelle affascinanti. Clicca sul pulsante di iscrizione e unisciti a noi per esplorare insieme il meraviglioso universo del cinema italiano.